Ripartire dopo 15 giorni dal decreto che ha sancito la riapertura dei teatri, devo dire che è il segnale che del teatro non ci siamo mai dimenticati e che quindi abbiamo lavorato anche quando i battenti erano chiusi. Il 6 maggio riapre il sipario del teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, da quest'anno diretto dall'associazione culturale Capotrave Chilowatt che da 19 anni realizza a Sansepolcro il Chilowatt Festival. Siamo gestori di questo teatro da ottobre, in questi mesi è stato fatto moltissimo lavoro sommerso, segreto, nel senso che il teatro ha lavorato, ha ospitato diverse compagnie in residenza artistica, a partire dalle compagnie del territorio e poi anche compagnie di livello nazionale che appunto hanno conosciuto la città e il teatro, la sua bellezza, proprio per lavorare alle proprie creazioni. Sarà una stagione di quattro appuntamenti che terminerà il 17 giugno. Cominciamo giovedì 6 maggio alle ore 20, insomma per rimanere dentro al coprifuoco comodamente e iniziamo con uno spettacolo di Lodovico Guenzi, che è il cantante dello Stato Sociale, Nicola Borghesi, che si intitola Capitalismo Magico. Proseguiremo il 20 maggio con Francesca Reggiani, il 3 giugno con Chiara Francini e il 17 giugno l'ultimo spettacolo sarà uno spettacolo di Elio Germano, realizzato però con una tecnologia nuovissima che si avvale dei visori per la realtà virtuale. Due invece gli appuntamenti fuori stagione a cura dell'Associazione Sosta Palmizzi. Domenica 9 maggio alle 18.30 verrà presentata la danza contemporanea d'autore di Harley King. Il 1 giugno, aspettando l'attesissimo debutto nel 2022, sarà il turno di una delle anteprime di Gli Ultimi Giorni di Pompeo di Andrea Pazienza. Quindi Sosta Palmizzi torna dal vivo con questi due appuntamenti e spera di farlo e di continuare a farlo, insomma, per tutta l'estate e anche per la prossima stagione. La stagione si svolgerà ovviamente in tutta sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti. I posti a disposizione saranno 140 con sedute distanziate e con l'uso della mascherina obbligatorio per il pubblico.